È nata in appena un mese, ha subito convocato assemblee nei territori e ora già si presenta alle elezioni politiche del 4 marzo. È potere al popolo la lista di sinistra estrema che giovedì sera ha presentato alla Croce Verde di Viareggio i candidati in provincia di Lucca. Nel proporzionale alla Camera Gianluca Venturini, Nicoletta Gini, Ennio Minervini, capolista. All'uninominale alla Camera Luca Deo, al collegio uninominale del Senato Francesco Merlo Corrotti, al plurinominale del Senato Fabrizio Bianchi. Era atteso anche il leader Giorgio Cremaschi, sindacalista USB, impossibilitato per malattia, mentre Viola Carofalo, portavoce nazionale, è intervenuta via Skype. Potere al popolo punta a unificare le lotte e i gruppi radicali dei vari territori. Un progetto politico che guarda ben oltre le elezioni di marzo. Una lista di movimenti composta da persone comuni, da persone che non hanno mai avuto cariche politiche, quindi da persone vere, da persone che non hanno e non parlano di problemi fittizi, per sentito dire, ma sono quelle persone che rappresentano il popolo. A differenza di tutti gli altri partiti, noi non abbiamo bisogno di convincervi, perché comunque sia quello che facciamo, quello che siamo. Lo potete constatare con mano, lo potete constatare nelle piazze, nei territori, nelle periferie, sui posti di lavoro. Noi ci siamo, noi siamo accanto a tutte quelle persone che hanno bisogno di una spalla, in certo qual modo.